Samsung Jet offre un'interfaccia nuova e divertente per accedere alle applicazioni multimediali. Grazie al tasto dedicato Motion Gate, qui posto sul lato del telefono, io posso aprire questo cubo che, ruotandolo con le dita, mi permette di accedere in modo rapido e divertente alle funzioni multimediali. Ad esempio per le fotografie, che una volta selezionate, posso scorrere semplicemente con un tocco del dito. Ovviamente grazie al tasto Q possono accedere rapidamente a internet, alla musica, alla radio FM, piuttosto che ai giochi tridimensionali integrati nel telefono. Ce ne sono già alcuni integrati in versione demo piuttosto che in versione completa, altri giochi possono essere scaricati dal Samsung Mobile. Grazie a tutti.